Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Battleland Royale Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se sei nuovi, lasciate un hashtag Battleland Royale con sotto i commenti per ricevere un cuoricino e noi andiamo immediatamente avanti con le nostre partite ragazzi Andiamo a fare le nostre tre partite giornaliere, andiamo con Simone Il primo che mi è capitato sotto mano, vai, vediamo un po' che cosa succede con Simone Giustamente qualcuno di voi mi ha detto Mordug sei nabbo, Mordug devi imparare, Mordug non sai giocare Ragazzi, questi sono giochi che io non ho mai giocato, specialmente da smartphone Quindi sono le prime volte che ci gioco e non sono abbastanza pratico neanche con i Battle Royale normali Tipo su Fortnite se sapete sono nabbo a schifo Quindi effettivamente per me queste sono novità, grandi novità che possono sicuramente non essere molto pratiche per me Allora lì ho visto un tizio che sta scappando, che mi piacerebbe colpire ma sta troppo lontano Quindi lasciamolo perdere e diamoci magari a un combattimento più corpo a corpo con sto tizio Sempre se riusciamo a colpire e a sparare Ok, direi che cambio arma assolutamente perché questo è molto meglio Oddio per sbaglio ho sparato al mio compagno ma tanto non lo prendevo Ok, stiamo girando un attimino a Zonzorello e non sappiamo dove andare Allora lì c'è una cura che per adesso non ci interessa Abbiamo delle belle forestozze che praticamente ci permettono di camminare un pochino più nascosti Ok, stiamo andando vicino all'area, perfetto Io volevo passare però da Cespuglio a Cespuglio Così deve essere più tranquillo Qui è stato ucciso qualcuno Quindi bisogna vedere bene con attenzione che non stiano qui in zona Stiamo in area abbastanza tranquilli per il momento e vediamo un po' che riusciamo a combinare Allora sto un po' storto con il mouse e ho paura di sbagliare Tipo in questo caso Guardate un po' che combattimento si è andato a formare Allora qua c'è qualcuno da colpire E io ti prendo a schiaffoni, non è vero Sì l'ho preso a schiaffoni Perfetto, allora mi ti prendo questa perché è mia, grazie Assolutamente, questa è un'ottima arma per me Ah ma hai lasciato lo scudo, perfetto, grazie Anche perché non ho tanta vita Allora direi che voglio andare a cercare una cura però Cerchiamo un Ial, mi devo curare Sto con Simone, ok la cura è mia, la cura è mia, la cura è mia, grazie Perfetto c'è qualcuno che si sta sparando Olè Boom, 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 vai giù Vai giù anche tu, manifesta pure tu No ma ha cambiato l'arma, l'odio L'odio Mi si è elevata la leggendaria, vabbè prendo questa Che dovrebbe essere più o meno un'arma sempre Ah no è colpo veloce questa Oh Colpiamo lo stesso, gentilmente, grazie Qui c'è il tizio là dentro Ok ce la dovrei fare, ok Vai Alla grande Oh oh, toppa gente Guardalo, guardalo il maledetto Sono rimasto senza arma Eh no K-O K-O io K-O il mio compagno Curami No no non così Oh Per poco, dai Seconda posizione No terza posizione Cavolo Va bene dai E' andata anche troppo bene sinceramente Allora andiamo a fare un'altra Terza posizione Quindi punticini raddoppiati 40 di esperienza Niente male sinceramente Ci avviciniamo al nostro bellissimo livello 10 E si prosegua con il nostro bellissimo pelatone Allora andiamo con David Partite veloci, partite rapide Più ne facciamo E più in 10 minuti riusciamo a fare cose carine Allora Sono con David Vediamo David dove mi porta David andiamo a città di pendolari Ok abbiamo capito Sempre se non hai intenzione di ricambiare un'altra volta Stiamo aspettando gente che entra Probabilmente stanno tutti a scuola O ancora a mangiare E invece io gioco a quest'ora La fascia vostra Allora vediamo un po' Mancano persone Su ne manca uno Una persona che entra a giocare Uno che va nel team Con un'altra persona Niente non fate Eccola Ci stava prendendo in giro Ok Anche questo David Sa che io Mi impanico Quando si spostano al volo Quindi Si diverte a giocare con me Meno degli altri Ma lo fa Ok Allora Sto scendendo qua Vabbè facciamo così No ci prendiamo tutti Della stessa arma Mi piace Mi piace Non ha preso l'arma Il mio compagno non ha preso l'arma Non so per quale arcano motivo Ha preferito cambiare arma E qua C'è la cassa speciale Vabbè Grazie Assolutamente Me lo prendo io Ok tu prendi dei quei colpi Io mi vado a prendere gli altri Prendi dello shield Vai Niente Me lo sta a lasciare a me Ok Va bene così Devono mettere un modo per parlare All'interno del gioco Può essere pure che esiste Io non lo so Però Sinceramente Ci starebbe tutto Allora Vediamo un po' Oh E questo Chi sei Ok Curati 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 Perfetto Siamo messi sufficientemente bene Ok si sta prendendo tutti i colpi Lui Un qualche colpino Potevi lasciarmelo Sto scherzando Ok Cambiando non so Se effettivamente i colpi ti rimangono Oppure ritornano quelli in base Dell'altra arma Ok Oh 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 Un tizio da scolpire Males Oh Lì ce n'è un altro Tienice Guarda come scappa Guardalo 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 schifosone Guardalo schifosone Guarda l'altro schifosone No 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 Dai Vieni a dare una mano Dove sei No Quello si cura No Non curare me Mena Ok Eh no Aspettato Il maledetto Vai giù Grazie Vai prendi della leggendaria Perfetto Aia Eh però Tu c'hai poca vita Io c'ho 80 Ma c'ho pochi colpi Probabilmente Devo Oh Siamo lì Siamo lì Eh devo andarci io Aspetta ci vado Ci vado Grazie Sto a 35 colpi Già va meglio Ho rischiato di perdere Un po' troppa vita Ma Almeno ho i colpi Allora la gente Se sta a menà Ancora c'è tanta gente Viva Guardalo Guardalo Il tizio lì giù E io te rovino Eh si è spostato però Eh io volevo ucciderlo Ok E io colpisco Il tuo compagno No sono rimasto fuori aria Uh Il culo di Mordug Che trova cura E non solo Anche l'arma per sostituire Oh Ok Questo a me piace Bene Perfect Ottima action Non me lo sarei mai aspettato E lì ne è uscita un'altra Vediamo un po' se lo colpisco da così Mamma mia Eh il mio compagno è stato colpito Ma Ah che bello Il problema è che non ho colpito L'altro tizio che è rimasto vivo Cioè è rimasto vivo solo lui Raga È rimasto vivo solo lui Dove ti sei nascosto Guardalo il maledetto Va Guardalo il maledetto Vieni c'è Ok Ok l'hai voluto tu Fine dei giochi Amore se stringe Ah Ah Ce devi venire Ce devi venire Mi dispiace Vittoria Io e David abbiamo fatto la vittoria Mamma mia Che partitone Oggi è giornata positiva Centro di esperienza per due Sì Si sale a livello dieci La cattiveria Nuovi oggetti sbloccati Dieci stelline Il marchio Dieci dei punticini E alla prossima La bandierina del battle pass A livello unci Anzi no Solo i soldini Perché noi siamo poverelli Niente battle pass per noi Ok Dovremmo avere almeno Un'altra partita fattibile Sì perché abbiamo l'accumulo Andiamo con Fra Fra 07 Vediamo Fra 07 Dove ci porta Ok Fra Vengo con te Vai Paradiso dei camper Andiamo Fra Fra facci sognare Ok Fra sa che a me Mi dà fastidio Il fatto di rimbalzare Da una parte all'altra Nell'attesa Quindi ha aspettato Con gran piacere Ok No Effettivamente sta lontano Fra Com'è possibile Siamo scesi più o meno lì Ok Andiamo verso Fra Sperando che non me l'ammazzano male Era anche abbastanza lontanino Fra eh Eh Dove è riandato Fra Ok Fra non sta venendo colpito da nessuno Fra ha ucciso qualcuno GG a Fra Che fa le cose da solo Mamma mia C'ha già l'arma Legendary Ok Io sto con l'arma da cecchinozzo Non me ne frego i colpi Grazie L'arma da cecchinozzo Da un chilometro Gli pigliamo un faccia Ok Vai prendi tu quei colpi Mi piace L'aria diventa più stretta Quello lì Piacerebbe pure a me Me lo piove Quanti colpi c'ho così 24 Vabbè dai 10 squadre rimaste Già È stretta la cosa È pericolo eh Stiamo in aria Quindi non stiamo neanche messi malissimo Sinceramente No quello c'ha lanciamissile Sbaglio Eh l'ha pure preso Lo scudino Non ha preso un altro Allora sei strombo Sei strombo Vieni qua Stromboide Perché scappi così tanto Vabbè Ti è dato Oh Cassabuona Uh Mamma mia che mi hai regalato Che mi hai regalato fratello GG Ok si prosegue Vediamo che riusciamo a fare C'è lanciamissilotto però È molto rischioso Il lanciamissilotto Ok passo dentro ai cespugli Per farmi notare il meno possibile Continuo a passare All'interno della zona Protetta Ok Passando sempre dai cespugli Dovremmo stare quasi in area No sicuramente andrà qualcuno là Quindi aspetterei nel cespuglio Eccoli Il mio compagno è rimasto fermo E non so per quale Arcano motivo Porca miseria Che botta che mi sono preso Dove stai? Compagno aiutami Ok 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 Dai 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 Spostiamoci Uh siamo salvi Scappa scappa Oh l'hai uccisi No sei un genio Sei un genio del ma Io mi curo qua Olè Vatti a curare il lato Che stai con l'armi migliori Sei leggendario E mi traini verso la vittoria Non è detto eh Che mi traini Verso la vittoria Stavo messi un attimo maluccio Però Ci si può provare Insomma Ok Sei ristretta ancora Comincia a diventare sempre più veloce la faccenda Allora si stanno sparando Olè Vieni qua Vieni qua Vittoria Abbiamo fatto la vittoria Mordughefra 07 GG Oggi è giornata alla grande Alla grande Un altro 100% De exp Mamma mia Che partitozze oggi Belle Mi piace Ok Allora Direi che abbiamo fatto abbastanza Abbiamo fatto diverse partitozze So andate benissimo Direi che ci possiamo salutare qua E vederci nel prossimo episodio Di Battleland Royale Arriiamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se sei nuovi Lasciate il hashtag Battleland Royale Qua sotto i commenti Per ricevere un cuoricino Il consiglio a gioco Se mi volete consigliare Qualche giochino da portare Alla prossima